Seconda tappa di ricette di innovazione, lo strumento per capire dove va la tecnologia, grazie anche a Banca Generali, buonasera all'amministratore delegato Gianmaria Mossa, buonasera Gianmaria, con noi un ospite d'eccezione, perché questo signore qua vicino a Gianmaria è il maestro della tecnologia sui telefonini, perché ha fatto l'unica cosa che conta nella tecnologia, cioè farsi scaricare da più di 2 miliardi di persone, si può dire così per il suo gioco Candy Crush? Quante persone hanno scaricato quel gioco? 2.3 miliardi di persone. Insomma, una cosa pazzesca, tra i 2,3 miliardi di applicazioni scaricate da loro, poi arriveremo, è una banca che vive di relazioni, gli ufficetti piccoli, il caffè offerto, come si coniuga la tecnologia a invece il lavoro tradizionale che fate voi Gianmaria? Vince lui sicuramente, 2 miliardi contro 200 mila, vince lui definitivamente, da parte gli scherzi, è chiaro che siamo intanto in una nuova era, l'era digitale, la rivoluzione più veloce nel cambio dei comportamenti e delle abitudini, quindi non si può negare che il cliente voglia accessibilità, semplicità e mobilità soprattutto. Poi però fortunatamente nel mio mondo si parla di soldi, si parla di relazioni, si parla di famiglia e sono tutti concetti legati a un'imprevedibilità di risultato e quindi un concetto di rischio che in qualche modo necessita un livello di professionalità e di relazione che il digitale difficilmente può dare. Quindi il connubio digitale, quindi semplicità e professionalità, quindi personalizzazione e vicinanza, sono le ricette per costruire una banca private nell'era digitale. La cosa più importante è innovare sul prodotto. La cosa bella e la cosa brutta è che il prodotto è la sola cosa che veramente conta. Se il prodotto non è buono, lo user va via subito. Se invece però il prodotto è buono ed è anche innovativo e quindi si distingue dagli altri prodotti che ci sono nell'app store, che adesso ha più di 2 milioni di apps, io a quel punto lo posso però distribuire su un pubblico che non è più locale ma è mondiale, che è quello che abbiamo fatto noi. Con pochissime persone, Candy Crash è stato inventato, creato inizialmente da un team di 10 persone, abbiamo praticamente lanciato questo prodotto in tutto quanto il mondo. Lei esclude che ci sia un bellissimo Candy Crash Biz che non è stato ucciso in culla, nonostante fosse bellissimo? Allora, innanzitutto è stato creato in Svezia, non in Italia, degli italiani. Io sono l'unico italiano nel team iniziale. La Svezia è un paese piccolo, è molto più piccolo dell'Italia, quindi questo vuol dire che si può creare dovunque. Candy Crash non è solamente un prodotto virale. Noi spendiamo con il marketing, quando noi abbiamo lanciato Candy Crash nel primo quartale, nei primi tre mesi del 2013, abbiamo speso circa 100 milioni di dollari di marketing, però finanziati dal prodotto. Quindi come si cresce un prodotto che è buono? Si cresce capendo quanto posso spendere e io dopo che ho speso 100, se vedo che ha ancora senso che i soldi ritornano, io ne spendo 200 dopo due settimane. Il marketing può rendere globale un prodotto che non vale? No, mi sembra di capire. Il marketing non può rendere niente se il prodotto non va bene. Se però il prodotto va bene, con il marketing sul digitale posso espandere in maniera molto veloce e profittevole in tutto il mondo. I soldi vengono quando ci sono idee nuove. Quando non ci sono idee nuove, i soldi non vengono. Tu sei convinto che manchino le idee, quindi non i soldi? Mancano le idee, non mancano i soldi. Io sono convinto, è matematico, che la percentuale di persone intelligenti è dappertutto uguale. Quindi in Italia sono uguali come in Svezia, in America, eccetera. Perché ci sono molti più start-up che hanno successo a livello internazionale in Svezia rispetto all'Italia. In Svezia ci sono sette unicorns, start-up che hanno raggiunto più di un valore di un miliardo di market cap, di valutazione. In Italia ce n'è una, Jux. La ragione principale è che su cento idee che vengono lanciate nuove in Italia, 90 sono focalizzate all'Italia. Per cui, prima ancora di cominciare, prima di mettere giù una linea di code, diciamo di programmazione, sono già fallite. Vi spiego perché. Allora, io quando lancio un'idea, deve essere una cosa nuova come start-up. Se io però focalizzo sull'Italia, guardo che l'idea sia nuova solamente a livello italiano. Non verifico se l'idea è nuova in America, se è nuova nel resto dell'Europa. Quindi scrivo un business plan che è limitato al mercato italiano. Con un business plan in mezzo al mercato italiano avrò una valutazione corrispondente molto bassa, per cui non avrò mai nessuno che investirà dall'estero nella mia società. Sarò subito... mi daranno pochi soldi per una gran parte, grande percentuale della società. E poi, anche se in futuro voglio poi espandermi all'estero, se l'idea non è nuova, avrò zero possibilità. Perché se non è innovativa a livello, anche in un mercato, non posso espandere. E non costa niente. La sola cosa che costa, prima ancora di cominciare, devo avere un'idea che sia nuova a livello, perlomeno europeo. Il rischio di una banca importante italiana è rimanere soltanto italiana. Sto portando su di te il ragionamento che faceva lui su una cosa più established, perché le banche non sono delle start-up, ovviamente. Lo senti questo rischio? Sì, soprattutto nelle piccole. Se penso all'esperienza nostra, noi stiamo cercando di internazionalizzarci il più possibile, perché ormai è il cliente che è globale e che ti richiede di essere in giro per il mondo. Il discorso del be local o be international, quindi aperto, è un tema centrale per il tema delle start-up, sicuramente, ancora prima che per il sistema finanziario, perché è un tema culturale, ha perfettamente ragione. L'Italia è un paese in cui si ha tutto e ha la dimensione per cui inizialmente, culturalmente, basta l'Italia per. E qui bisogna fare un salto quantico. È anche vero che in Italia c'è il contesto che non aiuta tantissimo, perché non è solo un'azione culturale, c'è un tema regolamentare molto forte. Se devo, io sono tendenzialmente ottimista, per due motivi su questo tema. Il primo è che vedo un fermento nell'università. Mai come in questo periodo ho relazioni con tante università che ci stanno davvero provando. E dall'altra ci sono talenti, come Riccardo, che, fatto il primo giro, fatto il secondo giro, fatto tanta esperienza, iniziano a riguardare l'Italia e quindi portano tantissima esperienza e tantissima voglia di fare, ritornare all'Italia, quello che ha sempre rappresentato per tutti quanti noi quando eravamo un po' più piccoli. Quindi è un tema culturale, è un tema normativo, ci vogliono i talenti, la volontà, università e persone di successo come Riccardo possono aiutare. Poi le aziende, poi le aziende.